Ciao a tutti! In questo video prepareremo la panna da cucina. Il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto. Gli ingredienti sono latte intero freddo, olio, i semi di girasole e un pizzico di sale. Mettiamo tutti gli ingredienti all'interno del boccale. Chiudere con il coperchio, 45 secondi, velocità o. La panna è pronta. Adesso impiattiamo. Si conserva in frigo per tre giorni. Panna da cucina a bimbi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie. 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 Grazie.